Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il gioco Le Rovine Perdute di Arnak, della Zeg Games, edizione italiana a cura di Cranio Creations, che io ringrazio di cuore immensamente per avermi fornito questa copia per la recensione ed è sempre, lo sapete, un piacere disumano e immenso collaborare con voi. Gioco molto atteso, gioco di cui si è molto parlato e discusso, ed edizione italiana, appunto localizzata da Cranio Creations, che stavamo aspettando e molti, io veramente ero molto curioso di metterci mano e provarlo perché è un gioco molto interessante che non mi ha deluso per niente, ma ve lo dirò nel giudizio finale. Me ne parlo a breve, dopo la sigla. Le Rovine Perdute di Arnak, in questa edizione italiana a cura di Cranio Creations, è un gioco di avventura. Voi siete un gruppo di investigatori, e mi fa un po' pensare e ridere, giochi tipo anni 80-90, un po' tipo l'Isola Perduta, ma solo come tema perché poi per il resto non c'entra praticamente niente, e film molto famosi come Indiana Jones o videogiochi che io adoro, i miei preferiti, la saga di Uncharted. Voi siete un gruppo di avventurieri ed esploratori chiamati, o per meglio dire capitati, dopo una grandissima ricerca, nelle spiagge di questa Isola Perduta di Arnak, e dovete andare, spero di aver beccato tra l'altro l'accento, che non sia Arnak, ma pensa Arnak, dovete andare a scoprire appunto i misteri di questa Isola, sorvegliata da dei guardiani, ma con dei tesori di veramente inestimabile valore, che farebbero la felicità di tutti gli Indiana Jones della situazione. Gioco competitivo, non c'è la possibilità tanto di andare a minare le azioni degli altri, quanto voi siete una squadra che arriva insieme sull'isola, però siete tutti quanti avventurieri, siete tutti quanti tombaroli, quindi ognuno è lì per sé, per quanto siete arrivati tutti insieme. Ognuno ha le proprie risorse, ognuno ha il proprio equipaggiamento, e chi guadagna più punti a fine della partita avrà vinto. Quindi comunque è un gioco veramente molto semplice come meccaniche, e di quella competizione che a me piace dire pure sana. Gioco da 1 a 4 giocatori, come riporta la scatola, dai 12 anni in su, partita della durata media di una trentina di minuti, sì, forse qualcosina di più rispetto a quello che ci ha riportato sulla scatola, e ci vuole almeno una partitina, 2 o 3 turni per rodare un po' tutto quanto. Diciamo, non c'è tantissime cose da tenere a mente, però c'è un attimino appunto da farci un po' la mano, ma il gioco è molto semplice. Vi faccio vedere, vi do un po' un'idea di come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Molto bella la confezione, mi piace molto questa classica colorazione e questo disegno che rimandano molto, vabbè, ve l'ho detto, giochi di punch arti, di Indiana Jones e cose del genere, ed è veramente molto interessante, vedete questo gruppo di esploratori arrivati su quest'isola che vanno in cerca delle rovine perdute di Arnac. Traduzione italiana e localizzazione a cura di Cranio Creations. Apriamo. All'interno è pieno zeppo di contenuti, questi sono degli stick da attaccare su il vostro libro e la vostra lente di ingrandimento che vi servono per fare la ricerca all'interno del tempio. Tutte quante le carte che ci sono dentro, carte equipaggiamento che potrete acquistare, prendere, pescare durante il vostro turno e le carte equipaggiamento vi finiscano in fondo al mazzo degli scarti che poi rimescolato vi vanno in mano, mentre invece le carte reliquia sono quelle che vi danno la possanza e sono quelle che vi consentono di fare azioni particolari. Poi abbiamo un sunto di tutti quanti, più che altro una leggenda, di tutti quanti i simboli che sono nel gioco, sono tanti, ma non vi preoccupate, sono semplici, e dall'altra parte lo svolgimento del turno per come funziona. Poi abbiamo le tavolette che servono per attivare di solito i poteri delle reliquie, ma per fare anche altre azioni con un costo. Abbiamo le frecce che di solito sono una valuta, tra virgolette, di attacco per combattere i guardiani, ma per fare anche altre azioni, comunque sono dei simboli che vengono richiesti molto spesso nel gioco. E poi abbiamo queste gemme che sono delle pietre preziose, che sono moneta di scambio, oppure anche per guadagnare molti punti al fine della partita. Un pochino di bustine per conservare tutto quanto. Meeple in legno, che vanno a rappresentare i vostri avventurieri, i vostri archeologi, e questi qui quadrati invece sono per attaccarci gli stick che vi ho fatto vedere precedentemente, che sono questi qua, con la lente di ingrandimento, vedete, e il libro, dello stesso colore tra l'altro del meeple. Tabella segnapunti, perché è un gioco che va tutto quanto sul punteggio. Regolamento, tra l'altro Bellino, fatto così grande, a striscetta larga, che ricorda un po' il diario di un avventuriero, Sir Nathan Drake, se vi ricordate. E poi le regole che sono facilissime, evidenziate molto bene, molto colorate, tra l'altro sempre come piace a me, regola, esempio, regola, esempio e immagine. E poi un mucchio di cose da defustellare, che sono soprattutto, beh, token, avventurieri che potete reclutare, che vi danno praticamente azioni in più, bonus per fare azioni e cose del genere, pagandoli ovviamente. E poi la tenda, il vostro accampamento, dove in queste azioni qua su in cima potete mettere le reliquie che trovate, per andare a spendere dei punti, e quando ce ne mettete una potete usare la combinazione che c'è qui accanto, per prendere questi bonus, e poi zona delle carte, dove mettere le vostre carte in gioco, zona di scarto, e soprattutto il fatto della tenda dove andare a immagazzinare tutte le risorse che troverete. E poi ovviamente sotto c'è il tabellone. Vi faccio vedere un po' come funziona. Il funzionamento del gioco è molto semplice. Voi avete la mappa dell'isola di Arnak, ma soprattutto delle rovine perdute, che potete andare a visitare, e siti dove potete fare gli scavi. Di solito avete un'azione a testa nel vostro turno, fino a che dopo non passate all'altro giocatore, e l'altro giocatore compie un'azione. E le azioni possono essere esplorare un nuovo punto, scavare in un nuovo punto, usare una carta, combattere un guardiano, o altri tipi di azioni che ce ne sono in tutto. Sono sei le azioni che potete fare, più azioni gratuite, perché quando sulla carta c'è il simbolo di un fulmine, potete usare quell'azione di quella carta senza consumare la vostra azione. Quindi se avete 4 carte con 4 fulmine in mano, le potete giocare tutte quante come azioni gratuite, e in più potete fare la quinta azione, che è magari l'azione vera e propria. Le carte le potete utilizzare per fare l'azione che c'è scritta, quindi molto classico come funzionamento, già visto magari in tanti altri giochi, meccaniche già belle rodate, oppure potete usarla per il simbolino del viaggio che ci trovate. Se per spostarvi in una nuova zona dove andare ad esplorare, vi chiedesse due simboli aeroplano, dovete trovare due simboli aeroplano sulle vostre carte ed utilizzarle per andare lì. Se vi chiedesse due simboli nave, ad esempio, dovete trovare simboli nave o simboli macchina o simboli normali dello spostamento della camminata a piedi, che vanno poi scalando. Il simbolo a piedi può essere sostituito dal simbolo in nave o in macchina. Il simbolo addirittura con l'aeroplano può sostituire qualsiasi altro simbolo nella scala gerarchica che avviene sotto, perché praticamente è un tipo di spostamento che volando magari ti porta ovunque, quindi può sostituire anche il passaggio a piedi. Quando andate a scoprire un nuovo sito, lo andate a scoprire, prendete la reliquia, prendete tutto quello che viene scoperto, dovete usare i vostri punti tempo, le vostre risorse del movimento, insomma tutto quello che c'è scritto nella zona voi dovete pagarlo per andare lì. Quando avete scoperto che cosa c'è, viene rivelato un guardiano, sempre per ogni zona, nuovo sito archeologico scoperto, viene rivelato un guardiano e quel guardiano vi dà una carta paura, che vi finisce nel mazzo e dà fastidio praticamente nel mezzo alla mano. Il guardiano lo potete sconfiggere, non dovete, lo potete, perché potete anche lasciarlo lì e comunque andare a scavare nel sito per tirare fuori punti, risorse e cose del genere, risorse che poi potete convertire per avere, che ne so, nuovi tipi di spostamenti oppure semplicemente anche per avere monete, perché la regola del gioco vuole che se non avete carte in mano per fare spostamenti o carte particolari, potete spendere due monete d'oro per reclutare un pilota o un aereo che vi porti in giro per la mappa più facilmente. E poi per combattere il guardiano e il boss si va a vedere cosa c'è scritto sulla carta del guardiano e dovete avere quelle carte da giocare con quei simboli, sconfitto il guardiano, vi prendete la carta guardiano con il relativo bonus a volte azione che vi può dare. Dalle altre azioni c'è la possibilità di far avanzare il cursore della lente di ingrandimento e del libro che ognuno di voi ha, con l'unica regola che la lente di ingrandimento deve sempre trovarsi o una casella sopra nella ricerca o sulla stessa del libro. Il libro non può mai passare a lente di ingrandimento, quella deve essere sempre o sullo stesso step o dopo ed è la ricerca del tempio, come vedete delle rovine perdute alla fin fine del grande tempio e quando arrivate a fare questa ricerca potete spostarvi all'interno pagando ovviamente sulla strada seguita le risorse che vi vengono chieste per avanzare nella scoperta del tempio e quando arriverete in cima ci sarà la possibilità di scoprire, oltre a prendere vari punti, svariati punti, reliquie e quant'altro, la vera storia appunto delle rovine di Arnac di questo sito archeologico che era vata alla ricerca ma di cui fondamentalmente non sapete niente. Fine partita si fa la conta di punti che possono essere influenzate da varie cose tipo quando trovate un monolito o una reliquia la potete tenere per guadagnare dei punti o la potete utilizzare per avere svariati favori per prendere risorse ma una volta utilizzate come se avete prosciugato il potere di questa reliquia l'avete utilizzato per magari andare avanti, passare avanti da altri giocatori ma non guadagnerete punti quindi l'avrete prosciugata quindi da una parte guadagnate e da una parte perdete ma anche la parte logistica e strategica del gioco. Come visto è un gioco molto veloce, ci sarebbero molte più cose da spiegare ma vi do soltanto una visione del gioco, non vado assolutamente a spiegare regole e quant'altro ed è un gioco secondo me veramente, veramente veloce. In conclusione questo Le Rovine Perdute di Arnak è un gioco per tutti e si può, visto che me lo chiedete spesso, è un gioco che si può fare anche in solitario quindi per tutti quei giocatori solitari che cercano giochi da fare in solo questo è perfetto perché sì è un gioco competitivo però lo potete giocare anche da solo, cioè alla fin fine dovete sopravvivere all'isola e alla fine vedere un po' il tipo di punteggio che tirate fuori può essere anche una sfida contro voi stessi la prima volta fate 20 punti, la seconda volta ne fate 25 anche per battere il proprio record ma quando giocate con altri giocatori è un gioco competitivo competizione sana, pulita, divertente, tutto quanto non si va a mettere i bassoni fra le ruote fra giocatori si può condividere anche le stesse caselle ad esempio soprattutto nella ricerca del tempio però comunque vince chi arriva prima a fare i più punti quindi è un gioco che prima arriva meglio alloggia fondamentalmente se lo volete acquistare primo link in descrizione e in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor gioco libreria semola al miglior prezzo sul mercato ce l'ha perché l'ho visto ma se l'avesse finito oppure nel catalogo digitate e non lo trovate perché non ce l'ha in lista mandate una mail a Corrado al supporto della gioco libreria semola che è il proprietario e ditegli arrivo dal canale di Coridan questo gioco l'hai finito oppure proprio non ce l'hai ma si potrebbe comunque ordinare lui farà il possibile per ordinarvelo al miglior prezzo sul mercato usate sempre il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro spese postali in tutta Europa in 48 ore gratuite quindi andate a vedere perché comunque si risparmiano dei soldini io ringrazio la cranio per avermi offerto questa copia per la recensione ed è un gioco veramente molto interessante di cui sicuramente scusate appena avremo un soppalco un pochino più grande un ufficio un po' più grande ci metteremo anche a registrare delle partite dei gameplay ciao ragazzi alla prossima